Il Ramadan in Tunisia è finito, la festa dell'Aid è stata martedì, la data però è stata confermata all'ultimo momento dagli alti sacerdoti che hanno controllato la visibilità della luna dalla Medina come da tradizione. Ramadan e Aid come occasione per vedere uno stravolgimento collettivo e apparentemente unanime dei ritmi di vita e di consumo, con in realtà una forte spinta al consumismo. Al mercato centrale di Tunisi vediamo la resistenza quotidiana alla tentazione di toccare cibo prima del tramonto e vediamo anche che la preparazione dei grandi pasti, ovvero cene, comincia già dal mattino. Qui, nella capitale del primo paese arabo che ha abbattuto la dittatura in nome di principi democratici e liberali, non c'è nessun obbligo legale al digiuno o alla pratica religiosa. Gente in moschea ce n'è, ma non moltissimi o meglio una parte della popolazione non ci va, però in ogni caso la spinta a partecipare al digiuno è irresistibile, che sia solidarietà o che sia conformismo. Non possiamo vedere se nel chiuso delle case un po' d'acqua la si beve, come sospettiamo, più di 15 ore in un giorno senza acqua è dura, ma possiamo vedere come si svuotano le strade quando si avvicina l'ora X della rottura del digiuno, ovvero della cena in famiglia. Ci sono anche casi in cui si mangia insieme per ragioni diverse da quelle familiari, come in questa manifestazione di solidarietà con la Siria e con la Libia. Di sera, in genere due ore dopo il tramonto perché a tavola si sta molto, la gente si riversa nelle strade, affolla i negozi aperti fino a tardi e c'è persino movida nella medina, cosa che in genere non succede mai neanche al sabato sera. Quando finisce il Ramadan, nel primo giorno della Eid, non si trova nessun negozio aperto, nessun ufficio aperto, nessuno disponibile a incontrarvi, è come da noi a Natale, solo che ora, per un po' di anni, sarà d'estate. Al pomeriggio si portano i bambini a spasso e si mangiano altri dolci, questa volta di giorno. Dolci come quelli che fanno ingrassare, si calcola in media di 5 chili, gli abitanti dei paesi del Nord Africa durante il Ramadan.